Si concluderà ai primi di gennaio il percorso che ha portato a subentro delle funzioni del personale dell'ASPA all'Agenzia Sarda per le politiche attive del lavoro. Dà notizia alla Regione sottolineando che il 9 gennaio i 300 precari che hanno finora operato nei centri servizi per il lavoro delle province firmeranno i contratti per l'assunzione della nuova agenzia che dallo scorso maggio ha preso in carica tutta la gestione delle politiche attive per il lavoro in Sardegna. Dopo il passaggio delle funzioni del personale a tempo indeterminato, già trasferito alle province dal Ministero del Lavoro, 240 unità, si legge nella nota, e il personale di ruolo delle province è impiegato in via esclusiva nei centri servizi e nelle politiche attive dal 2013, 70 persone. Ora si tratta della stabilizzazione dei dipendenti con contratto a termine che operavano già nell'Agenzia tramite i centri servizi per il lavoro CSL e CESIL. La determina, firmata dal direttore generale dell'ASPA, Massimo Temussi, tace il percorso di assunzione dei precari. Quella che stiamo realizzando è una trasformazione straordinaria. La struttura è passata da 80 a 640 dipendenti in pochi mesi e arriveremo a 800, sottolinea Temussi. La nostra mission è riorganizzare e gestire le politiche attive per il lavoro della Regione attraverso strumenti innovativi rispondenti alle esigenze della vastissima platea di coloro che nell'isola non hanno un'occupazione. Grazie a tutti.